Mamma mia raga che sofferenza Dio mio Cioè io pensavo quando eravamo in dieci No, loro erano in dieci Ho detto dai, speriamo comunque di non soffrire Niente Ci hanno massacrato Cioè finché era undici contro undici Era una partita noiosissima Veramente pallosa Lenta Non si riusciva mai a sbloccare Il Napoli che fa un gioco che è tutto dire che gioco Noi che eravamo stanchi, perché eravamo stanchi Lukaku che oggi non era Lukaku Perché Coulibaly ha fatto una partita mostruosa Non è che in difesa giocava contro Pizze e Fighi C'era Coulibaly Quindi Lukaku no, perché io già sento le critiche Lukaku, scarso è Perché adesso rivengono fuori i banditos Rivengono fuori i sostenitori Di Maurito Sicardi I banditos si rivengono fuori E hanno andato contro Lukaku Lasciamo stare sto discorso Se no si parla sempre dei Cardi Cardi non c'entra più con l'Inter Fortunatamente Comunque stavo dicendo Finché erano 11 contro 11 Era una partita tranquilla Poi dopo Cioè noi abbiamo C'è stato il rigore Netto Nettissimo Lukaku poi entra a buttare dentro Insigne spulso Perché sembra che ha detto qualcosa all'arbitro Da di lì Il Napoli sembravano fenomeni Intropolitano ha cambiato la partita Andano ci ha fatto due miracoli clamorosi Clamorosi Soprattutto il primo su Insigne E di lì però era ancora 11 contro 11 Ma aveva fatto due miracoli clamorosi Uno su Insigne e uno su Politano Poi il palo di Petagna Praticamente mancavano due minuti Petagna ha preso palo E di lì proprio non so Cacato sotto Come penso tutti gli interisti Niente Cioè io pensavo che Finché Era in parità numerica Una partita orribile Poi dopo loro Uno in meno Fenomeni Fenomeni Però le grandi squadre vincono anche così Le grandi squadre vincono anche soffrendo Le grandi squadre vincono anche così Perché se no oggi O col culo O in qualche altro modo Non so se la riportavamo a casa Invece Metteteci la fortuna Metteteci Andanovic Che comunque il dovere suo è parare Cioè non scordiamoci Non è che il portiere sta lì Ah vi ha fatto i miracoli Cioè il ruolo di Andanovic è parare Punto Poi che ha fatto delle grandi parate Nessuno lo mette in dubbio Ma quello lì è il suo ruolo Lo sta facendo benissimo L'ha fatto benissimo Quindi bravissimo Andanovic Tra l'altro Criticatissimo da tanti Anche da me Assolutamente Quando però c'è da lodarlo Andanovic Assolutamente Grande portiere E oggi ha fatto il partitone Forse Non dico il migliore in campo Perché sarebbe Come se Napoli avesse dominato Però ha salvato il risultato Questo bisogna dirlo Comunque la cosa positiva È che noi abbiamo vinto Il Milan ha pareggiato a Genoa Quindi benissimo Perché sulla carta La partita più difficile Era la nostra La Juventus ha pareggiato Con l'Atalanta Benissimo Il Sassuolo Che per quanto Non so durerà Però ha pareggiato anche il Sassuolo Quindi punti presi anche al Sassuolo Punti presi al Napoli Che ci abbiamo giocato contro Punti presi alla Juventus Adesso aspettiamo la Roma domani Ma alla fine la Roma è a meno 6 Quindi siamo ancora tranquilli Benissimo Siamo secondi A un punto dal Milan Il Milan può continuare Perché adesso c'è la Sinfonia Non perde mai questo Milan Benissimo Può pareggiarle tutte Fino alla fine della stagione Vediamo dove arriva Se le pareggia tutte Può continuare Non ne perde più una Non c'è problema Milan imbattuto Facessi pareggi fino a fine anno Poi vediamo dove Dove sta La trentottesima giornata Quindi niente Io ragazzi penso che Non c'è da dire altro Ho detto tutto Adesso domenica c'è La Spezia Partita sembra facile Sulla carta Ma in Serie A Soprattutto negli ultimi anni Di facile Non c'è niente È ovvio che Sono obbligatori Tre punti Cioè su questo Non si discute Non è che adesso Viene fuori Che la Spezia Partita forse ostica Non esiste Tre punti Punto Il Milan Non mi ricordo chi ha Sarebbe una grande occasione Per andare Primi in classifica Veramente Una grandissima occasione Passare queste feste Da prima in classifica Sarebbe veramente Uno spettacolo Chiediamo tanto Non lo so Però magari succedesse E niente Io vi saluto Lasciate un mi piace Un commento Andate a vedere Il video che ho fatto oggi Se per caso Non l'avete visto Che è molto molto bello Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Sempre Forza Inter Amala